Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzioni, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Rispondo ad una signora di Oxford che mi scrive, dottore ma io vorrei provare degli Audi e Bp3 DCS però sono scettica. Non mi ha specificato per quale problema. E io gli ho risposto testualmente, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola non è né religione né politica. Quindi non bisogna credere, non è richiesto il tuo credo. Anzi, per l'assurdo delle mie esperienze, chi più era scettico ed è scettico come lo era mio padre nel 2008, più risultati ottiene. Sempre assurdo, ma è la verità. Da statistica. Per cui io l'ho invitata e invito anche te a non credere al sottoscritto, a pensare che l'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958 dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. E lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Poitila, si auto-implodizzava per imparare le lingue straniere. Come ha dichiarato nella sua biografia, un librone così grosso che ti invito a comprare e a leggere. Premesso ciò, per sconfutare e confutare lo scetticismo, ti invito anche a visitare le riviste scientifiche internazionali scientifiche internazionali Lancet e Life, che le trovi su internet, ok? Oppure scrivere Hypnosis, perché soprattutto in America, in inglese, trovi del materiale, è il tuo problema. E vedrai una caterva, un'abbondanza di risultati storici, scientifici, di casi studio, anche di medici o di psicologi, psicoterapeuti, di caratura internazionale in tutto il mondo, per quanto riguarda il tuo caso, va bene? Risolti con l'ipnosi vera e professionale, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura e l'ipnosi da spettacolo. Per quanto mi riguarda, tu puoi andare a vedere e leggere tutte le testimonianze sul sito dell'Associazione Hypnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, di persone che chi più chi meno vuole conservare l'anonimato, e le devi capire. E, inoltre, vai anche dal tuo medico curante, in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi, l'importante è che il tuo medico non sia ignorante in ipnosi, perché anche qui, sul cento medici, soltanto uno conosce la vera ipnosi, purtroppo. Tu dici perché, la risposta della dai da solo, perché dire ipnosi è dire tutto e dire nulla. L'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, l'ipnosi di ICS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo perché non è uguale nel mondo, è fatta di parole, di base, che sono parole. Le parole di ICS, le suggestioni di ICS sono uniche al mondo perché io non ho mai visto delle suggestioni di ICS create in un certo modo, è neanche lo stesso metodo. E, oltretutto, il sottoscritto da più di 12 anni si ipnotizza H24, oltre ad aver aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo, per cui ti posso dire per filo e per segno che succede, funziona, 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 e gli scettici, gli ignoranti, chi non vuole, chi per motivi inconsci non vuole cambiare la propria vita per il bene proprio e il bene dei propri cari, perché inconsciamente è pieno di sensi di colpa, si trova qualsiasi scusa per evitare di iniziare, anche con un solo audio mp3 dicesse, che può essere qualsiasi cosa, la scusa, non siamo la storia che ci raccontiamo, per cui è inutile, quando uno disse, Nietzsche una volta, un famoso scrittore filosofo tedesco, Nietzsche disse, se hai un forte, perché dovresti farlo, trovi anche il come, ma molta gente queste cose non le sa che cosa fa, si racconta una scusa per darsi coraggio, andare avanti, perché inconsciamente ha un senso di colpa, camuffato, nascosto dallo scetticismo, dal non credo, perché si vuole punire da solo, perché è pieno di sensi di colpa, magari instillati dai propri genitori, vittime di altre vittime, oppure dalla tv, dagli amici, dalla scuola, e quando c'è un senso di colpa, quando siamo bambini, la punizione ce la dà mamma o papà, o il maestro, quando diventiamo grandi, non essendoci più mamma e papà e i maestri, ce la diamo da soli, come? Con i dolori cronici, con il rifiuto di utilizzare dei metodi, come il metodo dicesse unico al mondo, di ipnosi dicesse unico al mondo, con la B maiuscola, che ti può veramente risolvere il problema, poi è logico che l'ipnosi dicesse un sistema dicesse vero e proprio, ci sono degli audio, mi p3 dicesse, ci sono delle sessioni online di ipnosi dicesse, che vanno da 0 a 10 sessioni, che al momento sono sospese, poi ci sono degli audio dicesse personalizzati, ma ti posso garantire, dalle mie esperienze, per non spendere una barca di soldi, perché costa anche molto, non è ciò che vedi in giro e che divido anche ad andare, perché qualcosina la senti, a livello temporaneo, però è un qualcosa di veramente professionale, che ti può veramente aiutare, 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 e poi io mi ricordo quando chiamai un famoso esperto di ipnosi, tanti e tanti anni fa, dissi senti quanto costa tutto il tuo pacchetto, mi disse 1000 euro, in un secondo ho fatto il bonifico, non perché ce li avessi, perché erano gli inizi, immagino un po', non avevo neanche creato la mia prima attività, ma perché ero straconvinto, camminavo sulle acque, e ti posso garantire di tutto quel materiale che mi invio, aggiungo anche a nero, dall'Inghilterra mi ricordo, si hanno visto, visionato un 10%, ok? Poi quando ho incontrato la dottoressa Rina Bruni di Los Angeles Beverly Hills nel 2008, lì la mia vita proprio è cambiata, perché all'inizio io facevo l'ipnotista autodidatta, tra un lavoro e l'altro, ipnotizzavo chiunque arrivasse nella mia sfera, al mare sulla spiaggia, 10-20 persone per volta, immagino un po' la scena, chi si metteva a ridere, chi faceva finta di nulla, perché mi conosceva, la mia reputazione insomma era abbastanza conosciuta, oppure nelle mie fabbriche in tutto il mondo, chiedevo il permesso, rappresentanti, clienti, fornitori, collaboratori, chi più ne metta, perché? Perché camminavo sulle acque, non mi interessava, avevo visto dei risultati incredibili sul mio corpo, nella mia vita, addirittura prima di conoscere la dottoressa Rina Bruni, poi quando ho conosciuto il suo metodo, il metodo del professor dottor Michelangelo Garai di Los Angeles Beverly Hills e la dottoressa Rina Bruni, gli ho detto, ma dove sono stato? Perché problemi come l'ictus, come l'Alzheimer, come l'autismo, come il morbo di pacco, casi impossibili, nessuno nel mondo dell'ipnosi nel 2008 li aveva mai trattati e affrontati, ti posso garantire che funziona, 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 io sono l'unico caso in tutto il mondo che da più di 12 anni si ipnotizza da solo, non perché mi diverta, potrei anche non farlo, perché grazie a Dio sto bene, però lo faccio perché il metodo di CS, di prosi di CS vera e professionale, non mi ruba tempo, non mi stressa, non mi fa mettere gli auricolari, non mi impegna, per cui che mi costa, ok? Quindi se tu veramente sei convinto, devi farti la domanda, che cosa ho da perdere, una colazione al giorno per 30 giorni soltanto? Ecco la domanda, e poi fatti un'altra domanda, quanti soldi hai speso in tutta la tua vita, e sei sempre lì al punto di partenza, provare una persona che mette la faccia, e che addirittura ha ceduto tutti i diritti all'associazione i prologi associati di Los Angeles Beverly Hills, non credo che sia la fine del mondo, no, e se, immagina se e quando, io ti posso garantire che la stragrande maggioranza, anche con un solo audio mp3 di CS, ha risolto i suoi problemi, altri hanno messo insieme più audio mp3 di CS, perché bisogna capire il subcosciente che cosa pensa, un'altra minima parte ha fatto anche delle sessioni online di prosi di CS, ma perché spendere soldi admin cam, se puoi risolvere con un solo audio mp3 di CS, ecco la domanda che ti devi fare, non credo che una persona si metta la faccia per una colazione al giorno, non credo, no, ok, perché grazie a Dio io sto bene per le prossime 37 vite, la mia mission è quella di divulgare il mio metodo a più gente possibile, finché sono vivo, fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage ipnosi auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel qui che gli cambia la vita, seguimi anche sui altri social, instagram e twitter, per essere il primo a soluzione del dottor Claudio Saracino, un bacio e un abbraccio, alla prossima, ciao!